E' un abbigliamento un po' da varietà, oggi non c'è più il varietà, le trasmissioni di una volta, quelli del sabato sera, io ne ho fatti parecchi, firmati Antonello, Falfi, non si fanno più, una volta c'era il varietà, oggi c'è il cabaret, ma una cosa che li unisce è che oggi nel cabaret che cosa si fa? Si fa la satira politica, io guardo sempre a te, perdonami, perché sei l'unico con le luci qua, non si vede niente, l'unico che riesco a vedere sei tu, quindi sei il mio punto di riferimento, non ce l'ho con te, anzi, sarai preso in considerazione continuamente, ma insomma, divertiamoci, ah, anche la signora, si, si, la vedo, qui vicino non c'è nessuno, no, è vuoto, ok, spostati, mettetevi di qua, mettetevi così vi vedo, no, dove dice, dai, mi devo alzare, lo fa tre mattino, si sa fare, allora, ti stavo dicendo, la cosa che li unisce il varietà e il cabaret di oggi è la satira politica e come si fa la satira politica oggi? Si fa con i monologhi, parlando e dicendo i fatti del giorno, una volta nel varietà si faceva la satira politica anche a noi, ma si faceva in un modo diverso, come si faceva? Si faceva in musica, cioè si prendevano i fatti del momento, quelli socio, politico, culturali del momento, si mettevano in musica con quali? Con le canzoni, quelle delle in voga al momento, quelle, non so, dei festival di Sanremo, dei vari festival, eccetera, si metteva insieme, si parodiavano con i fatti di cronaca e nasceva lo Zibaldone musicale. Siccome a grande richiesta, ma lo volete ascoltare, ne volete un esempio? Prego maestro, vai con i fatti del mondo. È il paese del sole in questa nostra età lenta, nonostante la nebbia che ci osserva pure qui. Lo stivale è un avviso, senza mai contrarietà. C'è qualche delitto, un disastro quella, c'è chi è madre d'assi, ma in galera chi ci va? C'è tutto, poi va benone, arriva un'infezione, a casa, in detenzione, il popolo che va, cucina e ricucina, muove alta in genia. Per farla, per impassare, non deve, magna, ma corre e fa su e giù, corcare e si amare un. Onorevole ministro, che ci sono i giorni e notte, quattro tende, un altro. La vaccina si è un'avanzia, io però resto a distanza, sarò a mano a speranza. E poi quando t'arriva la pensione, per gli stenti sgoro un po' volerò col cuore. Perché? E perché, perché ripetendrà, e ricordare una cosa sa fa, pensa e studia che ce lo portà, ce lo mette per ripetendere. E che no, e che no, e che male al fondo si viene, che Montecitoria è piena, sono tutte presso qui. Sono 603, e i suoi mari sono tanti, ma i briganti più di 520. c'è chi fa il ministro, ma c'è il culo e i tre poltroni, se vuoi da si dimettere, ma questo è il prebordio. Titto dentro al gabinetto, tu esci e tira la catena, nel maniere di galleggio, se questi fanno pena, chi galleggia nella tazza siamo noi. Sono 603, fanno danni per 6.023. di galleggio, aiaiaiaia la, aiiaiaia, aiiaiaiaia! Nedewi? Questie salsadores d'��atamente in Italia ruba, metti tutto dentro mi, ti metti alzzi fai così, papapapapà, papapà, papé-pà. Paparou, papca, papau, papaparou, paparou, Pa, 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 pa e non riesci a starci più lontano. Nella tv Morena c'è Gervis, poti sempre a tenere il bando, Bonolis con la busso sempre a terra, la di Filippi e Conte triste e stanco. Il mio vicino girava la tiglia in un bottoncino a trovare una tv che fa lo strip ed ogni sera incollando al video e poi si fa le mie, eh sì, eh beh, eh sì, eh beh, eh sì, eh beh, ah sì. Verso le otto l'intero si vale, si mette a cena per telegiornale, mastica a rossi che caso non fa, si è abituata alle caratterità, aumentano i pugni, eh beh, va bene, stasera c'è i bologni, eh beh, va bene, il problema dei figli, eh beh, va bene, i due i miei fratelli, eh beh, va bene, ci si mette i casettine di lesi, la bussa paga con proprio le smesse, paghi di giorno, il telefono e poi, ma da chi dove sapete anche voi, un calo razzista, eh beh, va bene, arriva il turista, eh beh, va bene, hanno fregato, eh beh, va bene, ma c'è il campionato, eh beh, va bene, meno male che tutto va bene, meno male, meno male, meno male, tutto va bene, 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 Grazie a tutti